la giornata è bellissima molto molto bene è da qualche giorno che non ho la guida è la macchina così con l'altra sei portato ad andare guarda qui come hanno costruito fino giù al lago non lo so non lo so non lo so devo tenerlo sotto controllo qui vanno da qualche parte a fare off road poca 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 vodico vizze guarda che bello prefabricati devo andare a mettere benzina vado all'oasi vita che non vengo guarda no è tutto chiuso non c'è benzina ecco perché di là era spento no maledetti meno male perché era già un po' troppo cara però cazzo dove vado la boutique dell'off road cioè hanno dei prezzi proprio sparati guarda passiamo da dietro senza fare la superstrada gli altri paesini che ci sono qua il covizze prefabricati grazie 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 Questa è forte, eh? Sono proprio le case, guarda, hai visto? Queste sono proprio le case vecchie, molto vecchie, però fantastiche, mi piacciono. Ma sono di legno, ma che devi fare? E il lupo cattivo, il container ancora non c'era, cioè la casa di metallo ancora non c'era. Sai il lupo che arriva, i tre porcellini che si nascondono, uno ognuno nella propria casa, il primo, la propaganda. Guarda. Guarda questa. Guarda. 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 già avevano iniziato no, no, lo stavano già anche per terminare era questa? eh dai perchè è alla base di pietra ho Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso vado a vedere per quel pezzo da mettere dietro Con la copertura e il rivestimento Grazie a tutti Non ho nessuna idea di dove sono Ah sì, sono stato qui al lavoro Sbagliato Trovato Dovrebbe essere qua dentro All blast Dopo almeno un anno e mezzo ero finalmente riuscito ad arrivare fino qua E oggi stanno facendo l'inventario Alla prossima qui sta fermati amico guarda qui, questo è un ristorante italiano ma no, sembra che io questo non lo so forse solo su ordinazione cioè su prenotazione a presto a presto a presto a presto a presto a presto a presto